Musica Benvenuti a Tu per Tu, abbiamo ospite in questa puntata Manuela Bottamedi, consigliera provinciale di Forza Italia. Ben trovati, grazie. Con lei vogliamo parlare del disegno di legge sulle tossicodipendenze che è arrivato proprio in questa tornata in consiglio provinciale. Com'è andata? Sì, finalmente ha prodato questo disegno di legge che vuole affrontare un tema molto grave, un fenomeno che purtroppo anche in Trentino sta assumendo contorni di una certa gravità, e cioè il consumo di sostanze stupefacenti, la tossicodipendenza, il disagio giovanile ma anche adulto, perché comunque il consumo di droga diciamo non appartiene a una fascia sociale ben precisa e neanche a una fascia d'età ben precisa, ma colpisce un po' tutti. Ecco, è andata abbastanza bene nel senso che il mio disegno di legge era molto articolato, si componeva di 38 articoli, però diciamo l'assessore Zeni non era disponibile ad accoglierlo in toto. Pertanto siamo riusciti a trovare una convergenza su un paio di punti, in particolare proprio quelli che si riferiscono al disagio giovanile, quindi a tutto ciò che può portare un giovane o un ragazzo al consumo di droghe proprio per alleviare un dolore interiore, un disagio di vita che sta provando e quindi nelle scuole riuscire a portare dei progetti mirati in modo più capillare e diffuso, soprattutto attraverso metodologie nuove che io ho individuato nella peer education, cioè nel fare in modo che siano gli stessi giovani che educano e affrontano il problema con i loro pari, cioè con i ragazzi della loro età. Ecco, questa è una metodologia che funziona molto bene e che è stata sperimentata anche in altri paesi come Nord Europa ed ha un'efficacia davvero notevole. Ecco, su questi temi con l'assessore Zeni siamo riusciti a trovare un punto d'incontro e quindi il disegno di legge torna in commissione, dove appunto verrà ridefinito, ridisegnato e poi torneremo in aula e appunto riusciremo ad affrontare, e mi auguro a votare in senso favorevole, proprio questi punti specifici. Tra l'altro i ragazzi della consulta dei giovani, proprio in quarta commissione, un mese fa, erano venuti in audizione e ci avevano detto che proprio questi punti che adesso riusciremo a salvare erano notevolmente importanti anche per loro e quindi ci avevano portato il loro entusiasmo, la loro passione per il tema che coinvolge naturalmente anche loro in prima persona e vogliamo dare una risposta positiva, un feedback positivo anche a loro. Parliamo ora di parità di genere che è un tema, lo sappiamo, a lei particolarmente caro, se ne è occupata tanto in Consiglio Provinciale a Trento e questa volta abbiamo visto proprio dai risultati delle elezioni dei giorni scorsi che una bella truppa di parlamentari, anche dal Trentino, andranno a Roma di parlamentari donne appunto. Sì, questo mi rende particolarmente felice perché davvero questa volta non solo abbiamo dato un bel segnale come centrodestra, un segnale di speranza di cambiamento a livello nazionale ma anche e soprattutto a livello locale e quindi ecco diciamo già questo mi rende orgogliosa e felice ma ancor più abbiamo proprio questa truppa di donne anzi direi una, diciamo che a questo punto dovremmo pensare alle quote azzurre per riequilibrare un pochino la parità di genere. Ecco in questo caso non c'è stata parità di genere però giusto così, adesso è il turno delle donne che devono portare la loro sensibilità diversa, portare i temi cari anche alla famiglia, cari alle nuove generazioni, giovani e io credo che le donne a Roma potranno davvero fare la differenza con quella marcia in più che ci contraddistingue. Dopodiché ecco io le conosco tutte, conosco tutte le neoparlamentarie, devo dire che sono persone straordinarie che stimo, hanno l'entusiasmo della prima volta e quindi sicuramente sapranno fare un ottimo lavoro. Ora la domanda di un nostro telespettatore. Gli episodi di cronaca fanno emergere un disagio giovanile, cosa si può fare? Ecco si fa riferimento appunto a episodi di disagio giovanile, ce ne sono esempi che le cronache riportano appunto molto spesso. Ecco lei come risponde alla domanda del nostro telespettatore? Guardi, proprio in questi giorni, oltre al disegno di legge sulla tossicodipendenza, ho portato in consiglio anche una mozione che vuole introdurre nelle scuole elementari e medie, quindi proprio nella fascia d'età più sensibile, l'ora di educazione alle emozioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno delle euro opzionali, quindi non obbligatorie, che attualmente ci sono nella scuola, nel sistema scolastico trentino, ecco noi dovremo andare a recuperare un'ora, renderla obbligatoria e occuparci proprio di rendere in quell'ora i ragazzi, i bambini più consapevoli delle loro emozioni, anche più forti nelle competenze di vita, quindi nelle competenze relazionali, nelle competenze di gestione, controllo delle emozioni negative, nelle competenze di, diciamo, gestione di quegli eventi negativi che succedono a tutti. Ecco, quindi io credo che all'interno della famiglia, ma anche della scuola, si debba parlare assolutamente di emozioni, affrontarle, per poi diventare più forti, più consapevoli e in grado di gestire meglio la propria vita. Noi ringraziamo molto Manuela Bottamedi, consigliera provinciale di Forza Italia, che è stata nostra ospite. Grazie a voi. È tutto per questo appuntamento con A Tu per Tu. Arrivederci. Grazie a tutti.